Michele Briano un polisportivo alle prese con il tennis in carrozzina insomma ti abbiamo visto diverse volte all'opera a Celle Ligure nel meeting organizzato da Giorgio Ferrando oggi qui al Cus Genova nelle vesti di tenista ma io vorrei subito lanciare un messaggio promozionale perché lo sport paralimpico perché lo sport per i disabili è bello perché lo sport non cambia nulla solo che si fa da seduti si fa con delle protesi si fa per gli ipovedenti è sport come lo sport per i normodotati uguale identico ci si allena si fa fatica si hanno dei maestri che ci insegnano siano degli allenatori che ci seguono che ci danno delle tabelle abbiamo dei nutrizionisti che ci aiutano col mangiare e sport a tutti gli effetti facciamo un passo indietro quando è stato il tuo primo contatto con lo sport paralimpico io praticamente non ho mai smesso da quando mi sono fatto male che faceva atletica a quando ripreso a fare atletica nel 96 con la polisportiva quinto non ho mai smesso di fare atletica io ho la fortuna anche di lavorare di conseguenza durante la settimana lavoro al fine settimana mi occupo di me stesso e faccio sport la tua professione io faccio il tecnico ortopedico per un ortopedia qua di genova questi ragazzi li conosco tutti perché gli aiuto con le carrozzine con gli ausili è il mio lavoro è diventato il mio lavoro attraverso sportability abbiamo intervistato diversi atleti in carrozzina per esempio matteo orsi tenis tavolo che cercherà di andare alle paralimpiadi tutti hanno detto che insomma la carrozzina è il loro mezzo per realizzare il loro sogno andare una paralimpiade quindi hanno fatto di una difficoltà un'opportunità io dico sempre che se non mi fossi fatto male 31 anni fa non avrei fatto tutto lo sport che ho fatto da da atleta paralimpico io partecipato ai campionati del mondo partecipato a dei giochi del mediterraneo campionati europei mi sono divertito mi sono tolto delle belle soddisfazioni sono stato più volte campione italiano sia nei lanci che nelle corse in carrozzina mi sono tolto delle belle soddisfazioni qual è il momento più emozionante più bello che ricordi di questa lunga carriera quando ho iniziato forse a fare l'atletica perché non credevo che potesse essere così bello e così e potesse dare così delle soddisfazioni quando ho iniziato in occasione delle elezioni del CIP il presidente Cuozzo ha lanciato un ammonimento ci sono 5.000 studenti disabili in Liguria che non praticano sport secondo te qual è il messaggio che dobbiamo lanciare? non bisogna aver paura di affrontare le difficoltà perché comunque chi più chi meno riusciamo nello sport ognuno con le proprie difficoltà ma non bisogna aver paura di provare non bisogna aver paura di provare le difficoltà